Lo Slider King è uno sport nato nel 2009 e cofondato da me e di Fedato insieme a Stefano De Longhi che consiste da scendere da passi di montagna a bordo di un triciclo, vero e proprio, simulando la guida adrenalinica del rally quindi facendo i traversi sostanzialmente. Non ha ancora dieci anni e è già diffuso in tutto il mondo. Nato per permettere una disciplina sportiva anche per i disabili in poco tempo è diventato uno sport praticato in quasi tutti i continenti. Atleti internazionali che praticamente dalla prima edizione si ritrovano ogni anno sul San Bollo definita la pista ideale per questi tricicli per adulti. Nel campionato italiano degli anni passati abbiamo utilizzato altri posti, per esempio Maser piuttosto che il Nevegal. Il Passo San Bollo ha la caratteristica di avere i tornanti all'interno di gallerie e questo dà uno scenario, un panorama incredibile. In più l'unico mezzo che può fare i traversi in curva dentro le gallerie del San Bollo è proprio il triciclo quindi sembra creato ad hoc. Quest'anno tra l'altro il passo compie 100 anni, è la strada di 100 giorni e per questo abbiamo aperto a 100 piloti. Tra i protagonisti più lontani arrivano dal Brasile. Ha accolto l'occasione perché è una tappa fenomenale, fantastica, ambita a tutto il mondo e di conseguenza non si lasciano scappare questa possibilità. Poi dagli Stati Uniti. Per lui il San Bollo è la discesa più bella al mondo, ha girato altri paesi però tutto lo porta qui e ci torna ogni anno con un grande piacere. Ma il campione del mondo uscente è un europeo, è precisamente un francese. Viene dal mondo dello skater, ha fatto 30 anni di questa esperienza e poi ha detto cosa vuoi il triciclo, cosa vuoi che sia e invece ha detto che ormai si è concentrato tutta la sua vita su questo. Domenica si rinnoverà la sfida tra i tornanti, mentre per i più rimane la domanda. Sentite, ma alla vostra età andrà ancora il triciclo? Abbiamo trovato una soluzione per le persone che pensano di non poter fare altro e non poter più praticare degli sport e il triciclo permette di tornare un po' bambini. Grazie. Grazie. Grazie.